Crisi ufficialmente terminata per il basket cavezzo che con due vittorie consecutive cancella le altrettante sconfitte che avevano rovinato l'inizio di 2019 per le ragazze di Coach Carretti. Le piovere vincono in rimonta con il punteggio di 56-58, una gara importantissima in chiave primo posto in questa combattuta regular season. La Cetum senza la playmaker e leader Zanoli sfodera una prova di grande carattere soffrendo per lunghi tratti del match ma ritrovando nel finale le chiavi per portare a casa un prezioso e pesante referto rosa. Dopo il folgorante avvio giallo-nero 2-15 dopo i primi sette giri di lancette Fiorenzuola recupera nel secondo quarto grazie alle imprendibili minichine Podestà rivalta clamorosamente il punteggio chiudendo a riposo lungo con ben 12 lunghezze di vantaggio sul 36-24. Cavezzo barcolla ma non cede nel secondo tempo serra i ranghi in difesa per poi grazie alla vena realizzativa delle varie bocchi brevini e calzolari e marchetti recuperare un canestro alla volta fino a giocarsela punto a punto nel finale. Su un canestro di Bellodi un gioco da tre punti di brevini a sancire un clamoroso controsorpasso finale sul 56-58. L'ultima palla sarebbe per Fiorenzuola ma sul tentativo di Zanoli arriva l'incredibile stoppata di Marchetti che manda i titoli di coda sul match e fa esultare la truppa giallonera. La Cetum sempre più capolista tornerà in campo domenica 17 febbraio sull'ostico campo di Cesena.